Il mio breve saggio intitolato Metapsicologia dell'interpretazione ha, come il titolo suggerisce, l'obiettivo di mostrare i fondamenti metapsicologici della tecnica dell'interpretazione psicoanalitica. Oltre a esporre l'importante distinzione tra interpretazione e costruzione, spiega le ragioni che stanno dietro l'impiego della regola delle associazioni libere e, al contrario di quanto affermano molti analisti contemporanei, prova che la procedura freudiana di interpretazione è un dispositivo molto sofisticato, le cui regole non dipendono né da una generale sacralizzazione del setting né da intenti di salvaguardia del benessere del paziente. Dimostra, infine, che l'interpretazione diviene uno strumento perfettamente sterile se non viene subordinata a un'esigenza di oggettività scientifica e se non contiene precisi riferimenti alle dinamiche psichiche, così come sono descritte dalla teoria metapsicologica.